La città, il quartiere di Bari Vecchia, li abbiamo visitato insieme. Sul vostro lato direttore, vado a sequentrar, è una muraglia di un po' a Venezia, e vai a apprazzare tutta la parte antica della città, il bairro di Bari Vecchia, con le antiche che noi ci ha visitato. A Italia, il vostro lato direttore, è questa fortaleza di Sant'Andaù. Sul vostro lato destro, il signore, abbiamo un cortino di Sant'Andaù. Invece, sul lato sinistra, abbiamo il mercato del pesce. Sul vostro lato, il pesce, è il mercato del pesce. Sulla destra, invece, abbiamo le colonne. Sulla destra, abbiamo le colonne traiane di epoca romana. Sulla destra, abbiamo il mercato della città di Ferrara, del bar d'Italia. Sono un'intera. Sulla destra, abbiamo il mercato del pesce. Sulla destra, abbiamo il mercato del pesce. Sulla destra, abbiamo il mercato del pesce. del centro, che si chiama... Il mercato del pesce. Grazie a tutti.